E te ne vai, Maria, tra l'altra gente, che si raccoglie intorno al tuo passare, si è che gli sguardi che non fanno male, nella stagione di essere madre, sai che fra un'ora forse ti amirai, poi la tua mano nasconderà un sorriso, gioia e colori che fanno il conflitto. Ti saprò, ti amo, Vergine, Colomba, tutta un'ora, nessuna creatura è bella come tu. Preca per noi la mia, preca dei figli tuoi, madre che tutto puoi, madre di noi pietra. Nella fede e del sesto centenario del ritrovamento della statua della Madonna della Libera, il nostro Vescovo, padre Giancarlo, ha voluto indire un anno mariano, diocesano, ed ha promosso la peregrinazio Marie, che visita tutte le parrocchie della nostra diocesi. Accogliamo oggi l'immagine della Madonna che da 600 anni veglia e guida quanti a lei si rivolgono con filiali affetto. Chiamano una cubaretta in Africa e parlai, l'ho rimane a speranza, c'è le notte stellate, coppe strade lo c'ho presso, la miente è paura, la vita è una voglia secca, spinecchio, miseria per miseria. Misery for misery, Misery for misery, Fammi chiamare se, Hunger and thirst, Misery for misery, Misery for misery, Terra chiamare io, Earth calling for hell. Chiamano una cubaretta in Africa e passai, l'inferno, l'ho eccechile che non l'amano, l'orrore è guerra oscuro, viente e mare, o sanga carna bruciata sotto i piedi, Misery for misery, Misery for misery, A bella chiamare cai, King for rainbow, Misery for misery, Misery for misery, Mano che spartano pane, Hands breaking bread. A Cerce Maggiore c'è il sesto centenario di ritrovamento della statua, e per questo motivo il Vescovo ha voluto indire un anno mariano, cioè tutti i cristiani della diocesi, devono essere coinvolti in qualche maniera quest'anno, sia nell'approfondimento della fede, e sia nell'approfondimento e nella conoscenza della figura di Maria e della sua fede. La Città di Rizzo Come primo cittadino, l'Unità di Andriche, appartengono attente per la bella comunità di Cerce Maggiore, è stato un bel evento, perché significa come la comunità e tutte le comunità di Patrice si sono integrate, anche la visita, la donna forse ci aiuta a superare quelle barriere che purtroppo, voi per necessità o per altro ancora ci sono, io spero che andiamo tutti di fronte in Chiesa, nella vita, e mi piace come dire come in allenamento in genere si dice, Dio benedica chiedono la benedizione per la loro operazione, io dico Dio benedica la nostra comunità, benedica l'Italia e la Madonna della vita, assieme alla nostra Madonna della strada ci guardi, ci proteggono e anche a cura di tutti noi anche di quelli che sono voi per lavoro, per immigrazione e specialmente per chi si trova oggi in situazioni problematiche di salute o di altri problemi di economia grazie e benvenuti grazie a tutti